Dovete sapere che nel XVIII secolo il filosofo tedesco Immanuel Kant rivoluzionò la nostra concezione del mondo, evidenziando che non possiamo mai sapere com'è là fuori, al di là di noi stessi. Questo perché la nostra conoscenza è limitata entro i confini della nostra mente e dei nostri sensi. In fondo noi non sappiamo come siano le cose in sé, ma sappiamo soltanto come le stiamo sperimentando. Questa concezione è alla base della terapia gestaltica, secondo la quale la complessità dell'esperienza umana, con le sue tragedie, i suoi traumi e la sua gamma infinita di possibilità, è codificata dalle lenti individuali attraverso cui noi vediamo questa realtà. In pratica noi non assorbiamo automaticamente tutti i suoni, tutte le sensazioni e le immagini del mondo, ma li scorriamo velocemente e selezioniamo soltanto alcune di queste immagini. Come fa notare Fritz Peirles, uno dei fondatori della terapia gestaltica, questo significa che il nostro senso della realtà è creato dalla nostra percezione, ossia dai modi in cui noi concepiamo le nostre esperienze e non dagli eventi in sé. Tuttavia Peirles dice che tendiamo a scambiare la nostra opinione del mondo con la verità assoluta e oggettiva, anziché riconoscere il ruolo della percezione e la sua influenza nel determinare il nostro punto di vista. Per Peirles l'unica verità che si può possedere è la propria verità personale. La gente crede che la propria opinione sia la verità oggettiva, ma l'esperienza umana è colorata da lenti personali. Attraverso noi vediamo la realtà, perché è la nostra percezione a forgiare la nostra esperienza. Ed è possibile cambiare le nostre realtà interiori e alla fine cambieremo le nostre realtà esteriori, ma dobbiamo disfarci dei valori dati, dobbiamo disfarci dei valori dati dalla società, dalla famiglia, perché dobbiamo scoprire i nostri veri valori personali. Infatti noi prendiamo coscienza di essere in un processo costruttivo, cioè di stare costruendo il nostro proprio mondo e quindi la nostra verità. Dunque la verità è sopportabile soltanto se sei tu a scoprirla, dirà Peirles. Peirles sviluppò le sue teorie negli anni 40, quando dominava l'idea psicoanalitica secondo cui la mente umana era riducibile ad una serie di pulsioni biologiche che cercavano la propria soddisfazione. Ma per i gusti di Peirles questo approccio era un po' troppo rigido, troppo strutturato o semplicistico e generalizzato perché non ammetteva l'esperienza individuale, che per lui era invece della massima importanza. Inoltre Peirles diceva che gli analisti non consentivano ai propri pazienti di riconoscersi come creatori delle proprie esperienze e quindi non potevano assumersi la responsabilità di questa creazione. Il modello psicoanalitico opera partendo dal presupposto che i pazienti siano in balia dei propri conflitti inconsci, finché un analista non arriva a salvarli, a salvarli dalle loro pulsioni inconsci. Invece Peirles riteneva essenziale che le persone capissero il potere del proprio ruolo nella creazione. Voleva che noi ci rendessimo conto che possiamo cambiare la nostra realtà e che in effetti ne abbiamo la responsabilità. Nessun altro può farlo al posto nostro. Ciascuno di noi quindi è tenuto ad assumersi la responsabilità della vita che crea e del modo in cui sceglie di concepire il mondo. Da qui deriva l'adagio nessuno può farti arrabbiare se non tu stesso. E semplificato alla perfezione dalla filosofia di Peirles. Nella terapia gestaltica la persona è costretta ad assumersi la responsabilità diretta delle proprie azioni e delle proprie reazioni, a prescindere da quello che sembra che stia accadendo. Quindi la terapia della gestalt pone l'accento non tanto sul perché, sulla causa che sta dietro al comportamento, ma l'importante è il come e il cosa. In pratica si può sostituire semplicemente un'espressione come io non posso con io non voglio. E allora diventa evidente che sto compiando io una scelta, sono io che scelgo. Non posso dare la colpa a qualcun altro o a qualcos'altro per ciò che provo. Il che diventa io non posso farlo. Per esempio, facciamo un esempio. Se per esempio diciamo dovrei, possiamo sostituire la parola dovrei con non voglio. per esempio adesso dovrei andare diventa adesso voglio andare. E anche questo serve a rivelare l'elemento della scelta, imparando ad assumerci la responsabilità della nostra esperienza, poiché questo ci aiuta ad essere più autentici e liberi dell'influenza della società. Dunque il vittimismo a questo punto scompare. La capacità di scrivere le nostre regole personali è qualcosa di essenziale, in quanto ci fa essere responsabili di noi stessi e ci permette di costruire il nostro mondo e la nostra verità. Dunque l'esistenza diventa più facile da sopportare, perché la verità è tollerabile soltanto se la scopri da solo. Pierce diceva, adesso vi faccio sorridere, io vado per la mia strada, tu vai per la tua. Non sono al mondo per soddisfare le tue aspettative e tu non sei al mondo per soddisfare le mie. Tu sei tu e io sono io. E se per caso ci incontreremo sarà bellissimo, altrimenti non ci sarà stato niente da fare. Vi lascio con queste parole, augurandomi di aver stimolato la vostra curiosità intorno a questo autore, e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche, per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo questo messaggio. Come funziona la consulenza specificando il vostro nome e i vostri orari preferiti. Potete visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video. Mi trovate anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. Inoltre vi informo che ho scritto quattro libri che troverete soltanto su amazon sia in versione cartacea che è in versione ebook. In bocca al lupo.